Mi è piaciuto tanto anche a me fare la maestra? Io sognavo di fare il pittore. Io l'astronauta per vedere lo spazio. Sì, ogni guardiano del faro. Ma quanti lavori strani! Qualcosa di più normale! Ma ce n'è uno! Che li raccoglie tutti! Ecco la lampada notturna Peppa Pig! Batti le mani e si accende! Puzzle 3D Ravesburger, illumina il tuo mondo! Puzzle 3D Ravesburger, illumina il tuo mondo!